Naturale e artificiale naturalmente hanno a che fare con le questioni mediche, della cura, del prendersi cura, però si dice anche i nuovi social creano mutamenti nella percezione di essere uomini e donne, persone, con dei limiti. Sicuramente sì, ormai noi non possiamo non vedere il fatto che abbiamo anche un'identità digitale. La cosa migliore è che la nostra identità digitale sia totalmente sovrapponibile alla nostra identità di persone, vale per le persone, per le istituzioni, per le associazioni. Ormai bisogna pensare al fatto che esiste anche un'identità digitale. Proviamo a immaginare tutta la discussione legata all'eredità digitale, alle persone che non ci sono più e che mantengono la loro vita nel mondo digitale o che decidono di regolare la loro vita anche nel mondo digitale. Questo fenomeno crea ovviamente dei forti interrogativi dal punto di vista filosofico, dal punto di vista giuridico, molto importanti e anche dal punto di vista psicologico perché sicuramente il fatto di avere un'identità digitale in qualche modo mediata da una macchina ci induce spesso a pensare che quel nostro io non sia tanto io e quindi a produrre delle cose per cui magari noi in rete siamo più arrabbiati che nella vita e dobbiamo invece cercare di fare il procedimento inverso e immaginare la nostra identità digitale come specchio fedele della nostra identità.